Noi abbiamo esempi continui, se vogliamo fare un esempio concreto, io mi sto leggendo un volume gigantesco, perché qua c'è 500 pagine, Richard Steigman Gall, il Santo Graal, le concezioni naziste del cristianesimo, Borolli Editori. E' un libro che demolisce molte cose e tra l'altro, questo è un testo che penso sia una pietra emigliare negli studi dell'argomento, già noi l'avevamo detto però che il fatto che in un ambito accademico si riesca a produrre un libro del genere che venga tradotto e che non venga diffuso, tendo a contare che questo qua è un libro incredibile per la mole di citazioni, cioè nel senso che chi ha letto Desner, sta con il cristianesimo, sa che esistono centinaia di citazioni. Questo testo fa le stesse cose. Tra l'altro, sfortuna vuole che sono centinaia di testi in tedesco e c'è una cosa che dice chiaramente come si creano i miti, come si creano leggendole menzogne. Dice nella parte finale dell'autore Gall, Hitler tradì una persente ammirazione per il fondatore del cristianesimo. Dice, scrive testuale, la convenzione che il cristianesimo fosse un movimento anticristiano è uno dei luoghi comuni più persistenti degli ultimi 50 anni. Questo preconcetto si manifestò addirittura prima che il movimento prendesse forza, ma acquistò vigore soltanto dopo la guerra. E poi abbiamo un signor Ratzinger che va a parlare del nazismo con radici pagane. Allora, posso leggere un'altra frase che dice... Dice, molti capi nazisti, sia paganisti sia cristiani, riverivano Gesù come una figura la cui lotta personale contro gli ebrei servì da ispirazione anche alla loro lotta. Tanto i paganisti quanto i cristiani del partito descrivevano Lutero come un grande eroe nazionale e un riformatore religioso, come il primo tedesco, il primo protestante e semplicemente il primo nazista. Molti capi del partito mostrarono la convenzione che il cristianesimo avesse avuto grande importanza per l'ideologia nazista. Lo fecero nelle loro conservazioni private, nei loro scritti e con le loro azioni prima e dopo nel 1933. Chiusa citazione. E sarebbe da leggere moltissime cose. Lui tra l'altro, giustamente, usa il termine paganisti e non pagani. Perché dice, i pagani esistevano e erano fuori dal partito. C'era gente che si era del periodo nazista e che sembrava avere qualche accenno al paganesimo. Addirittura riporta una dichiarazione di Himmler, come si tratta del grande pagano, che dice Io sono cattolico e se anche venisse accettata la Chiesa rimarrei sempre a difendere la Chiesa. Testuale proprio di Himmler. Ma è esistito soltanto all'interno del nazismo un personaggio, anzi la moglie di un personaggio, che ha avuto la critica al Cristo. Bene, era la moglie del generale Lundendorf. Dice l'autore, Hitler espulse Lundendorf dall'NS Dapp e proibì ai membri del partito nazista di entrare nella lega di Tannenburg. Questo è stato l'unico che è stato cacciato dal partito perché metteva in discorso solo la fricola di Cristo. Tutti i grandi pagani che avevano attribuito al nazismo sono mai sentito il partito nazista. Perché venne cacciata Lundendorf e sua moglie? Dice, potendo quello che poi anche Lundendorf rettificò le cose e scese a patti con i protestanti, ma l'unico caso perché aveva attaccato la figura di Cristo. Come l'aveva attaccata? Scrive Gall. Nel 1931 Matilde, la moglie del generale Lundendorf, preciso io, scrisse un libro intitolato Redenzione da Gesù Cristo, nel quale proponeva di istituire Gesù con una panteistica adorazione della natura. In questo e in altre sue scritte del periodo, Gesù non era l'eroico leader degli ariani, bensì un ebreo alcolizzato che nemmeno morì in croce. In questa sua interpretazione dei fatti, la Bibbia risultava essere una menzogna ebraica che distruggeva ogni impulso volkish. I cristiani, spesso ignali delle conseguenze di ciò, stavano propagando una fede che avrebbe condotto alla decisione della Germania. La ricerca di Dio non doveva condurre a Cristo, ma piuttosto alla campagna tedesca, a un divino sangue e suolo. Come l'intero mondo è permeato dall'anima di Dio, le piante e gli animali della Germania non sono privi di anima, come gli schiavi di Yahweh. Era una vera e propria deificazione della Germania la ricerca di un sostituto cristianesimo. Per queste sue affermazioni sono stati cacciati via il partito nazista. Sembra che dimostri accuratamente che cosa fosse il partito nazista. Io non sto qui a leggere le decine di citazioni che sarebbero da fare, questo è soltanto il libro a 500 pagine, ve lo consiglio. Richard Steymangall, il santo Reich, la connessione nazista del cristianesimo, borogli e dettori. Vale la pena di leggerlo, proprio perché è un testo, io qua ne avrei da leggere, solo di un capitolo, perché c'è un capitolo più specifico sui pagani. 16 sarai trasmissioni da solo, potrei leggere le cose. Anzi, posso dire un altro particolare, che mi dà enormemente fastidio. Quando ci sono i famosi documentari televisivi sul nazismo, hanno sempre la pretesa di tirare fuori la storia che Himmler voleva vendicare i pagani sassoli, i pagani uccisi dai cristiani. Benissimo, di questo particolare così importante dei documentari storici italiani, Gall dedica soltanto poche righe in una nota del capitolo, neanche un capitolo, ma in una nota del capitolo, e dice che questa tesi è totalmente panzana, perché Hitler considerava Carlo Magno un eroe dei tedeschi. Una cosa che non riporto, che vi aggiungo io, che le Waffen-SS avevano un generale belga, dell'azione cattolica, sempre stato cattolico, che chiamava la sua divisione Carlo Magno. Ecco, perciò, tanto per dire. E per Hitler Carlo Magno era un eroe dei tedeschi, del popolo tedesco. Sì, sì, va bene. Andiamo avanti, Francesco, cambiamo di argomento, se no mi scappa via sto Marsinkus, la storia di questo personaggio.